Un capo gentile e comprensivo come lei sarà difficile da trovare. Posso dirle lo stesso, lei è stata per me una segretaria perfetta. Dopo anni di lavoro con una multinazionale, ero stato costretto alle dimissioni per forti divergenze sulla loro politica ambientale. Potrebbe darci una mano, cosa ne dici? Matteo, mio marito. Il sosseguirsi di tutti questi avvenimenti, dette un colpo di acceleratore al proposito Il tuo caffè Lidia De trasformare il nostro amore clandestino in un'unione alla luce del sole Credo proprio che mio marito sospetti qualcosa Macrina Lombardi Io non sono Matilde, sono Macrina Se vuoi una sua copia, fatela cercare in qualcun'altra Mentre infelice sono rimasta io Grazie a tutti